Siamo davanti alla sede della Polizia Municipale per la presentazione della Control Room. Si tratta di un innovativo sistema, una piattaforma totalmente digitale che permette di monitorare e controllare tutto il territorio comunale attraverso una serie di telecamere, attraverso anche l'utilizzo della intelligenza artificiale che permette di scandagliare tutto il territorio. Questa Control Room sarà di supporto alla Polizia Municipale sostituendosi all'uomo però in quelle che sono le mansioni ripetitive soprattutto perché così permetterà di individuare per esempio attraverso il riconoscimento della targa chi abbandona illicitamente rifiuti o ancora servirà a monitorare il traffico in una città congestionata dalle auto e dalla difficoltà di far defluire il traffico in maniera tale da poter aprire o chiudere determinate strade o di individuare qual è il motivo di un determinato tipo di ingorgo. E ancora il monitoraggio delle telecamere servirà per esempio, lo ha fatto un esempio proprio classico, il questore di Palermo anche per individuare reati criminali perché oggi oltre il 60% dei reati criminali viene risolto grazie all'utilizzo delle immagini delle telecamere di videosorveglianza o ancora serve per controllare il territorio e quindi si è ritornati per esempio al fatto di cronaca terribile dello scorso 7 luglio quando l'utilizzo delle telecamere ha permesso di ricostruire il passaggio dalla Vuciria al Foritalico del gruppo dei sette ragazzi più la vittima. Ecco, l'intelligenza artificiale oggi viene utilizzata al servizio, in questo caso della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine ma al servizio del cittadino perché un controllo da remoto del territorio permetterà di avere maggiori servizi sul traffico, sul abbandono dei rifiuti, sul controllo del territorio di supporto anche per l'abusivismo, di supporto anche per il controllo di quello che riguarda microcriminalità. Ecco perché è stato importante anche oggi presentare questa nuova struttura che verrà a Palermo monitorata dalla SISPI che è il sistemone del comune che servirà proprio a monitorare tutto quello che riguarda dall'alto Palermo. Una novità che appunto noi adesso vi facciamo vedere in esclusiva.